Possiamo iniziare? Siete pronti? Volentieri, sono molto carico, Nicola! Allora, buon gioco, buon gioco a tutti e a tutti comunque. Buon gioco. Grazie. Vai. Prego, descrivete i vostri personaggi. Parto in ordine per come vi vedo. Dario. Io sono un nano. Dovrei essere almeno un nano. Ho scavato una caverna per viverci. Cosa? È vero, nanni c'è, è la mia storia. Lo fanno, lo fanno, nanni. Il problema è che scavando questa caverna a lungo sono entrato in casa di uno. Come siamo alla città? Panda. Panda, la città di Panda. Sono entrato dentro questa casa e per caso ho ucciso il figlio perché la parete della casa di questa è caduta direttamente sul figlio. Però la gente... Giuro. Come si chiama questo chierico scavatore ammazzabimbi? Raptor. Lui scava? Cioè lui scava a bestia proprio. Lui scava a bestia perché sta cercando una chiesa misteriosa. La chiesa che apparteneva a sua madre e che ha nascosto a tutti perché ricolma di gioielli. Ma tu hai letto l'avventura che ho scritto, scusami? Sì. Io ti sto dietro, Nicola. Ma no ragazzi, ma io mi diverso. Beh, ci studiamo. Potete fare quello che volete. No, non dire così. No, non dire mai così. Meglio di noi. Non ci sono limiti. Che pensi? Eh, ma no. Va bene. Va bene, la kafkania, dimmi tu. Io sono un'umana e sono un arciere. Allora, io so un erfo. So un erfo. Da Lazio. Sono un mago. Sono qua per mettere in pratica tutte le cose che ho imparato a scuola. Tra l'altro ho 100-200 anni. Quindi scuola l'ho fatta 100 anni fa. Sono una fussa incontrollabile e mi chiamo Scammer. Vabbè. Giulia. Io so Arfling, però un giorno è successo che un nano scavando ha fatto cadere le fondamenta della mia casa. Giulia, io ho deciso di amarti in questo momento. Una cosa fondamentale, Giulia. È il nome, il nome. Il nome, il nome di questo Arfling ladro che vuole diventare di nuovo ricco ma che ha subito un trauma terribile perché qualcuno gli ha ammazzato i genitori buttandoli giù la parete. E lo vuole ammazzare. Poggi. Nanni. Sì. Allora, posso solo dirti questo, per favore. Sono un umano guerriero. Si contraddistingue per tante caratteristiche. Una delle quali è l'incredibile capacità di saper trombare le fie. Questa è la scheda. Comunque, il mio nome è Silver. Sei un coglione, posso dirlo? Si parte? Posso partire io? Dove dove andare? Aspetta. Vicino a voi c'è la casa del Borgomastro e davanti vedete che c'è una bacheca dove sono affissi delle missioni in cui la gente, avete altri avventurieri come voi passano e strappano. Che cosa volete fare? Posso dar fuoco all'arbero? Vado all'alfabro, sì, che è la ferramenta medievale. Vado all'alfabro e fa... Senta, lei ce l'ha lo zifone? Che cosa, scusi? Vorrei uno zifone e del carbone per accendere un fuoco qui davanti. No. Molto spesso di te. Mi dia lo zifone. Silver. Sono Silver. Noi non ci conosciamo, vero? Come no? Stiamo viaggiando insieme da giorni. Ma non ci siamo mai... Ma che sei stupido? Andavamo a una miniera. Ma fatti, domandami... Nella miniera sotto la chiesa. Non è capito un cazzo. No, 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 bisogna andare in miniera, ma la miniera chiesa di Grofalec, se non erro. Vero? Nicola. Com'è che si benedisce un albero? Col cosco, con l'acqua, veda lì che fa... Con l'incenso. Non so, non sei tu il chiarico, mica io. Ah sì, io... Ho uno strumento. Il Vortex. Ma tu hai un incantesimo che si chiama Benedizione. Ah, Benedizione, sì. A sto punto, per funzionare, devi recitarmi una formula magica. Raps. Che cazzo è sta roba? Allora, con Grofalec... Madonna mia, vi odio con tutto me stesso. Voi sapete che Grofalec è all'incirca 22 chilometri e mezzo. Nel giro di un tre ore ci potresti arrivare senza benché minimo problema. L'albero ci può teletrasportare, giusto? No. Albero. Innanzitutto, come ti chiami? Ti chiamerò Albert Aptur. È molto difficile da pronunciare. Ti chiamerò Ugo. Qual è il prezzo per il teletrasporto nella chiesa miniera di Grofalec? Dovrai darmi la cosa a te più cara. Il sacco di dita di cui sono vestito. Ma che cazzo fai? È la cosa più importante. Mago, questo cubo, guarda qua. Bella, sì. Studialo, io non so cosa fa. Tu sai che è magico questo cubo? È magico. È una sputacchiera. Prete, se ci spudi una volta, Prete poi diventa tipo un getto fortissimo di acqua. Un'arma potentissima. Che altri incantesimi ho io, Nicola? Scudo della fede e un comando. Comando fa fare agli altri quello che tu gli ordini di fare. Maledetto me che vi ho dato questi incantesimi al test. Nicola, posso guarire in qualche maniera da lubriachezza? È una tecnica per curarmi dall'alcol. È evacuare in qualche maniera. Però non devo né fare pipì né popò. È l'unico liquido che mi è rimasto nel corpo è liquido seminale. Quindi io do un... C'è anche il vomito, eh, comunque, vabbè. Io do un ordine a Silver. No, no, no. No. Io comunque rialzandomi per il mio gruppo utilizzo luce. Cosa è il luce? Era il mio scudo. Perfetto, ottimo, eccellente. Se lo lanci, lanci anche la luce, eh. Allora non do luce allo scudo. Darò luce al mio pene. Allora, io mi giro verso il nano e faccio per te un nitropompa verso la sputacchiera. Vai sopra il nano. Non riesci a colpirlo col getto della sputacchiera. Però colpisce un cadavere che era appeso al soffitto e rivela una chiave. Però il cadavere si alza. Il raptor! È mia madre morta! Mi sa il suono. E sa il nome. Mamma! Senti una voce dall'alto. Nipote! Nonno! Anche tu qui! E c'è uno slime che cade dall'alto. Bio nonno! Come hai fatto a diventare bio nonno? Non credevo fosse possibile. Io provo a solidificare mio nonno. Cos'ha in mano? La torcia! La danci contro l'ameba. L'ameba prende fuoco e cade a terra. E lì è la tua marce. Che cosa fai? Prendo delle assi di legno. Allora intanto l'ameba si siede. Le metto sull'ameba e mi siedo sopra. Cioè aspetta. Sta morendo. Soltanto che voglio accelerare ancora di più e vedere ancora di più la sofferenza di questa ameba. Sedendotici sopra. Comunque c'è in chat un esercito di persone che vorrebbe diventare un'ameba e lo segnalo. Fermi! Raggio di gelo sulla madre! Vabbè ma sei un coglione! Scammer, come è stato? Tu hai lanciato un incantesimo nel mondo reale non nella scuola di magia di Elfolandia. Quindi? Esatto. 200 anni per arrivare a questo momento. Ne sono passi da pena. quella strozza della nonna. Oh! La mamma. È diventato un ghoul, no? Sì, non è più mia madre. Esatto. Quindi decido di prendere la balestra. Del GG? Sparare. Esatto. Allora ne prendo due. Decido di prendere le balestre del GG. Come benedici la freccia che scoccherai nel cuore di tua madre? Decido di benedirla con l'incantesimo che si tramanda di madre in figlio tra i bambini di Grotarek. Ciao Dario. Grazie di essere venuto. Mi spiace, cioè. Ovvero l'incantesimo Propolli. Tu hai una chiave. Che cosa apre questa chiave? Col pene luminoso illumino per terra e si vede una botola. Quindi sotto una porta c'è un'altra botola. La porta ti porta in bagno. La botola in realtà ti porta alle linee sotto Grotarek. C'è questa stanza piena, eh? Piena di pietre prezziose. prezziose di forzieri, di monete d'oro, di perle, di diamanti. E questa enorme pietà preziosa, uno smeraldo gigantesco. Sulle mani di quella che è la statua di un nano. C'è un altare pieno di quello che era sangue propriamente incrostato da secoli. Potrebbe succedere che se noi tocchiamo questa cosa qui e poi non ci mettiamo un peso contrapposto, ecco potrebbe... un anello nella borsa. Un anello molto prezioso. Magari potremmo provare a fare il cambio. C'è una cultura abida. Sto cazzando la pietra, sto cazzando un pochino in alcune... Cosa fate? Sono le otto e mezza, ragazzi. Cosa fate? Mi allungo e prendo la pietra. Allora, la statua esplode. Ecco, dovete fare tutti quanti un tiro salvezza su mia sprezza. Dopo alcuni attimi sei tutta rintronata, Poggy, ti rialzi, sei ferita, vedi i tuoi compagni feriti, pietre prezioso v. Ragazzi, riuscite ad alzarvi? Devi svegliarli tutti, devi svegliarli se non ho un punto ferito. Il tempio di Grotalek è stato espugnato, tutti i suoi tesori sono stati presi, alla fine siete ricchissimi adesso tutti qua. Che cosa fate? Ti salutiamo. Grazie. È stato figo in culo. Grazie. Ciao, ragazzi a te. Ancora, davvero. Grazie. ciao, 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 ciao,